Il Giardino dei Ciliegi, lo spettacolo che ha rappresentato il capolavoro di Chekhov ed ha inaugurato la stagione al Teatro Stabile di Catania sul regia di Giuseppe Di Pasquale, ha visto sancire il proprio successo, con i 20 minuti di applausi finali. La nuova produzione ha debutato alla Sala Verga il 21 novembre, ma sono previste repliche fino al 7 dicembre. Giuseppe Di Pasquale, regista dello spettacolo, ha anche firmato la traduzione e l'adattamento. La trama racconta una storia russa e il periodo in cui si configura il tracollo dell'aristocrazia, vecchia classe dominante, e l'affermarsi di quell'emergente, borghese. La location è un giardino appunto di ciliegi che, simbolo della trascorsa ricchezza, andrebbe lottizzato e venduto per sfuggire all'asta incombente. Intorno a quel podere lievitano i ricordi e le aspettative di Liuba, la protagonista aristocratica interpretata da Magda Mercatali e della sua famiglia. L'opac in Un contadino, interpretato da Pippo Pattavina, rappresenta la nuova classe antagonista, che da vicino il lavoro lo tocca, non lo pensa. Ma è il giardino stesso, secondo il regista Di Pasquale, il vero protagonista invisibile dello spettacolo, e che alla fine soccomberà come i tronchi sotto la scure. E' così stato aperto il ricco cartellone impaginato dallo stesso Giuseppe Di Pasquale nelle vesti di direttore dello stabile, e che prevede una carellata di ben 27 titoli, che si succederanno nelle due sale Verga e Musco.